Presentata la settima edizione del progetto Sionkio organizzato dalla direzione Inail Lombardia in collaborazione con Promo Serio. A partire dal 14 gennaio e per tre settimane 31 persone infortunate sul lavoro e provenienti dalle province di Bergamo, Brescia, Milano, Sondrio, Cremona e Pavia affronteranno le piste del Donico in compagnia di esperti istruttori agli ordini di Claudia Ferrari della scuola Scicollere responsabile tecnica dell'iniziativa. Sono stata una delle prime a occuparmi di sci per disabili più di vent'anni fa, oggi abbiamo quasi tutte le scuole di sci della Lombardia che hanno dei maestri specializzati, in particolare nella nostra Val Seriana e Val di Scalve tutte le scuole sono dotate di maestri di sci specializzati. Siamo molto facilitati nelle relazioni dal tipo di attività che facciamo che è molto bella e molto divertente e anche faticosa, la fatica viene comunque ampiamente ripagata da questo tipo di relazione che si viene a creare certo. Intento è insegnare lo sci mediante attrezzature di alto livello tecnologico superando i limiti fisici causati da incidenti professionali. Gli ospiti soggiorneranno presso alcune strutture alberghiere di Castione e Colere in collaborazione con Coraltur dotate di camere e bagni attrezzati e prive di barriere architettoniche. Un'iniziativa che vuole essere di aiuto ai lavoratori infortunati, l'abbiamo accolta con una duplice nota di gioia, da una parte la possibilità di collaborare in modo organizzativo e amministrativo ad una iniziativa che appunto dà una mano ai lavoratori più sfortunati che in questo modo possono apprendere i rudimenti, le tecniche dello sci grazie a attrezzature specializzate e dall'altro la possibilità ancora una volta per Promo Serio di fare conoscere la bellezza e la ricchezza dei nostri territori, in questo caso con speciale riferimento ai comprensori sciistici e naturalmente a quel gioiello che è la nostra presolana. Mentre ufficialmente...